E vai ragazzi, il record è stato superato Sono tre millesimo nel mondo Tre millesimo, minchia ragazzi Qua bisogna arrivare almeno nella top 100 Nella top 100 bisogna arrivare Cazzo, spin, ok, spinniamo Oh no, non mi piace la musica del deserto Che diavolo Ma cosa cazzo Capisco Ok, lo voglio provare un'altra volta Ma No, bestia Ah, l'ultima, l'ultima, ok E ci hai fatto anche tu le live su Mario Maker Guarda che è perfetto per le live Mario Maker Che cazzo Ma cosa cazzo Cosa cazzo è successo Ma poi un checkpoint Ok Due stanze Un livello di due stanze Va bene Nuovo record Madonna ragazzi Stasera stiamo spaccando tutto 1993 293 Raga Se quasi finiscono altri due livelli Si arriva in top Un top In top 1000 Oh no Livelli Mario Bros Lo stile Grazie a tutti Grazie a tutti